Dieci persone sono state arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'evasione e frode fiscale a condotte plurime di banca rotta. Per 17 persone è stato prescritto il divieto di esercitare l'attività d'impresa, stabilito poi il sequestro preventivo di somme di denaro nella titolarità di 17 società di capitali e di 25 indagati e in via sussidiaria delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di questi ultimi, fino a concorrenza del valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. L'operazione denominata Ultimo Brindisi, coordinata dai procuratori europei delegati di Palermo, ha riguardato un articolato gruppo criminale che avrebbe illecitamente commercializzato bevande nel territorio nazionale in evasione dell'IVA. Capo dell'Associazione per delinquere sarebbe risultato un incensurato classe 83 figlio di un esponente del clan mafioso Santa Paola, attualmente al 41 bis nel carcere di Sulmona. Dalle investigazioni durate circa due anni è emerso che il gruppo criminale con base operativa è decisionale in un deposito di bel passo. Ha realizzato negli anni un volume d'affari superiore a 100 milioni di euro, frodando il fisco per oltre 30 milioni. L'organizzazione era strutturata su scala piramidale, che celandosi dietro teste di legno gestiva di fatto imprese cartiere e interposte. Le cosiddette cartiere servivano ad utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti nella commercializzazione di bevande che, grazie all'evasione d'imposta, potevano essere vendute a prezzi altamente concorrenziali. Il gruppo criminale simulava operazioni intracomunitarie in regime di reverse charge, l'imposta sul valore aggiunto, e assolta dal destinatario della fornitura dei beni, in luogo del cedente, tramite una società apparentemente situata in Bulgaria, ma di fatto gestita in Italia sempre dalla stessa organizzazione. Nel sequestro preventivo sono finite 17 società con sede a Catania, Messina, Padova e Roma, tutti operanti nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio di generi alimentari e bevande e del trasporto. 98 immobili in provincia di Catania, Messina, Salerno, Roma, Padova, Siracusa, Rieti, L'Aquila e Milano, e 29 veicoli per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, quale profitto del reato di evasione fiscale ai fini dell'IVA.